Sono 17 le guarigioni registrate ieri a Torre del Greco, certificati anche 4 nuovi casi di positività al Covid-19, tutti posti in isolamento domiciliare. Attestato inoltre il decesso di un cittadino classe 1959. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco, 380 attuali positivi, di cui 30 ricoverati e 350 in isolamento domiciliare, 1876 guariti e 58 decessi. A Castellammare e di Sabia sono state registrate nelle ultime 48 ore 15 nuovi casi di positività al Covid-19. 6 di essi risultano avere sintomi della malattia, un 59enne si trova ricoverato. Dichiarati guariti in oltre 61 cittadini. Tra coloro che hanno sconfitto il virus c'è un bimbo di 3 anni, un 13enne e 3 16enni. Il bilancio dei contagi a Castellammare conta attualmente 1.538 positivi, 1.088 guariti e 27 decessi. Dai dati rilevati nei giorni 14 e 15 dicembre accertati nella città di Portici, 12 casi di nuovi positivi su un totale di 229 tamponi. Scende dunque la percentuale dei contagiati sul numero dei tamponi effettuati, che si attesta al 5,2%.